Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Maxi sequestro farmaci dopanti dall'est 50 indagati per acquisizioni in tutta Italia Coinvolte palestre e centri sportivi Ultimo saluto questa mattina a Jessica Cuna Nella parrocchia di San Biagio, Cucurano Di gestore anaerobico arrivano le controproposte Del comitato promotore del referendum Presentati gli appuntamenti collaterali Al palazzo del Carnevale Intanto agli hangar dei carri Una nuova anteprima dei giganti di carta pesta Buonasera cari telespettatori Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito nei titoli Arrivata questa mattina la decisione Forse anche un po' sofferta Presa dalla giunta Seri Di confermare lo stop alle auto Anche per la prossima domenica Domenica 2 febbraio Nel centro storico Sentiremo fra poco Dalle dichiarazioni del sindaco Seri Rilasciate ai nostri microfoni Proprio al termine della ragione Della riunione Le ragioni di questa decisione Decisione che comporta anche però Alcune variazioni alla viabilità Per evitare il caos E alcune code che si sono verificate Domenica scorsa Sentiamo le parole del sindaco Abbiamo fatto una valutazione Intanto sull'esperienza di domenica scorsa Ci sono Perché poi le scelte vanno fatte anche con elementi oggettivi E non con le narrazioni Con le suggestioni Intanto partiamo da un principio Come se fossimo a casa nostra Abbiamo i nostri figli Ci sono elementi inquinanti Noi ci preoccupiamo di ridurli Questo è il comportamento che deve avere un sindaco Un amministratore serio Senza ipocrisie Senza fare atti Che sono irrealizzabili E allora siamo partiti Analizzando i risultati Domenica scorsa Ed è oggettivo Che l'inquinamento Veicolare Non risolve il problema Ma è un elemento che inquina E quindi è una di quelle parti Che vanno ridotte Perché abbiamo visto Che siamo scesi Anche rispetto alle città vicine In quella giornata Con le stesse condizioni Quindi ci dimostra Che l'inquinamento veicolare È una parte importante E su quella continueremo a lavorare Poi ci serve fare anche un secondo esperimento Perché dobbiamo verificare Anche con condizioni diverse Quindi ritoccando a quella che è la viabilità Perché effettivamente Alcune scelte hanno creato ulteriori disagi Invece di migliorarle Quindi la viabilità migliore è quella del carnevale Che rende più snello E quindi perché se si fanno intoppi Andiamo a migliorare da una parte A peggiorare dall'altra Perché poi la centralina raccoglie L'inquinamento non solo di quella parte Quindi faremo un ulteriore passaggio Domenica 26 Con accorgimenti che andranno a rendere più fluido Il traffico Secondo elemento Faremo delle sperimentazioni Del lavaggio delle strade Durante la settimana E vediamo qual è il risultato Perché qui nessuno ha le certezze E quindi se funzionano Sono dei provvedimenti che possiamo usare anche in seguito Lo faremo durante la settimana Perché anche il traffico File settimana E durante la settimana È diverso Quindi lo sperimenteremo due giovani E vedremo Qual è il risultato Poi non farò un'ordinanza Dove dirò ai cittadini Di ridurre di un grado Due gradi Perché non abbiamo gli strumenti Per verificarla Sarebbe una presa in giro Mentre dico Cuore aperto A tutti i cittadini Siamo tutti partecipi Proviamo ad abbassare Ognuno di noi Nella propria abitazione Nella propria azienda Almeno di un grado La temperatura Questo aiuta Noi lo faremo negli edifici pubblici Negli edifici pubblici Ridurremo di due gradi La temperatura E quindi daremo noi Per primi Il buon esempio E poi questa cosa Guardiamola sotto un aspetto Bello e positivo Allora un messaggio Domenica prossima Invadiamo a piedi Coi pattini Il centro storico E viviamolo Come avviene Nei momenti belli Quando c'è la città da giocare Quando c'è il carnevale È anche un modo nuovo Per vivere la città Anzi diciamo A tutte quelle persone Che non sono di Fano Venite Che ci sarà una città Ancora più accogliente Bene Queste le parole Del sindaco E passiamo alla cronaca Un'auto Ha preso fuoco Autonomamente Alle 5.40 di oggi Nei pressi Della grande rotatoria Che porta La superstrada Nel quartiere Di Sant'Orso Alla guida Della Renault A benzina Una coppia Di coniugi Pesaresi Che una volta arrivati Nei pressi Della rotatoria Dopo aver percorso Via Pertini Si sono accorti Del fumo Che fu riuscire Vada a vano motore Hanno fermato l'auto E sono scesi Questioni di attimi E fiamme altissime Hanno presto Avvolto l'auto Anche una pattuglia Della polizia locale Di Fano Di passaggio In quel momento È intervenuta Tentando con un estintore In dotazione Di spegnere le fiamme Ma in vano L'auto è diventata Presto una palla Di fuoco con i proprietari Sani e salvi Però ad assistere Inermi Al rogo Della loro auto Sul posto Anche una squadra Dei vigili del fuoco Di Fano Che in pochi minuti Ha spento L'incendio Assieme anche A una pattuglia Della polizia Stradale L'auto È stata rimossa Dalla sede stradale Con l'ausilio Anche del carroattrezzi Intorno alle 18 La pattuglia Della polizia locale È stata impegnata Anche a deviare Il traffico Per consentire In sicurezza Tutte le operazioni Dei vigili Del fuoco E oggi Questa mattina È stato Il giorno Del commiato Dell'ultimo saluto A Jessica Cuna Una chiesa Ed un sagrato Fitto di giovani Quasi tutti Coetanei Ha accolto Alle 9.50 L'arrivo Del feretro Di Jessica Cuna A Cucurano La giovane Travolta Da un treno merci La notte Tra sabato E domenica scorsa Alla stazione Di Fano Abbracci Tantissimi Moltissimi Prima Dell'inizio Del rito Tutti Fitti E forti Tra i ragazzi E gli adulti E gli adulti Con volti Smarriti E gli occhi Gonfi Per le lacrime Che sono lì Pronte a uscire Al minimo Incrocio Di sguardi Volti tirati Anche tra i tanti adulti Parenti O semplici Conoscenti E residenti Che in questa Anonima mattinata Di fine gennaio Hanno voluto esserci Perché una ragazza Di 24 anni Potrebbe essere La figlia La nipote La sorella Di tutti Un cartellone Con un collage Di foto Fatto dagli amiche Racconta Pezzi Della breve Troppo breve Esistenza Di questa ragazza Di origini Leccesima Qui da una vita Tra facce buffe Scatti gioiosi Tra amiche E istantanee Di vita quotidiana Durante il rito Delle esequie Nella liturgia Della parola Celebrato Da Don Steven Carboni E Don Marzio Berloni Parroco di San Biagio Forte È stato il richiamo Ai giovani A ricercare Il vero senso Dell'amore E non l'effimera apparenza O il voler piacere A tutti i costi A qualcuno Con il rischio Che questo bisogno Spasmodico Di voler esserci A tutti i costi Esponga Le giovani vite A quella che Don Steven Chiama Le fregature Della vita Cerchiamo Di uscire Da questa chiesa Stamattina Non cercando Necessariamente Continua Il prelato Una risposta A tutti Perché Che una tragedia Come questa Fa scattare Usciamo invece Con una vera E sola consapevolezza Che l'amore di Dio È carità E misericordia Ed è l'unica fonte Di luce vera In grado di illuminarci Parole dritte Precise Del sacerdote Che conosce Il linguaggio Dei giovani E che li ha esortati A valorizzare Il proprio talento Interiore E a farsi accettare E a farsi accettare Per questo Un pensiero Poi Da tutti e due I sacerdoti È andato Alla famiglia Che ha saputo Dare un senso profondo Al rito Partecipando Alla scelta Delle letture E dei cori Espressi in chiesa Un messaggio Di grande dignità Che dimostra Anche il percorso Intrapreso Dalla famiglia Sul sagrato L'ultimo saluto A Jessica Tra le ali Di amici E conoscenti Tra abbracci E fiori Prima di lasciarla andare Verso il cimitero Di Rosciano Dove la salma È stata inumata I carabinieri Del comando provinciale Di Ascoli Piceno E del NAS di Ancona Hanno portato a termine Un'importante operazione Antidoping Volta a smantellare Un ingente traffico Di farmaci dopanti Immessi sul territorio nazionale Provenienti dall'est Europa Sono 55 le persone Indagate a piede libero Ritenute a vario titolo Responsabili di ricettazione Utilizzo Somministrazione di farmici O di altre sostanze Al fine di alterare Le prestazioni agonistiche Degli atleti Nonché importazione illegale E vendita di medicinali Al pubblico A distanza Senza autorizzazione Si tratta di medicinali Contenenti in androlone Testosterone Ormone della crescita E steroidi Anabolizzanti Per un giro di affari Di 500 mila euro Ed oltre Durante le perquisizioni Effettuate in 30 città italiane Tra cui anche Nella provincia Di Pesaro Urbino Sono state sequestrate Migliaia di confezioni Di farmaci dopanti Coinvolte diverse strutture Tra cui palestre Centri sportivi Amatoriali E in particolare Anche ciclistici Anche ciclistici E torniamo ad occuparci Del dibattito Ancora aperto Sul digestore Anaerobico Perché dal comitato Promotore del referendum Del quesito referendario Però arrivano anche Delle controproposte A questa tipologia Di impianto Sentiamo quali Beh sì Noi oltre ovviamente La protesta Stiamo E abbiamo organizzato Questo referendum E attendiamo peraltro A giorni Dal comune Una risposta Facciamo anche una proposta Visto che no Stanno parlando Del fatto che Solo il digestore Anaerobico Possa in qualche maniera Trattare i rifiuti Di tipo organico Che producono Sia le famiglie Che anche le attività Commerciali Invece Proprio a pochi chilometri Da noi a San Marino Hanno anche Un altro tipo di Esperienza Con un sistema aerobico In questo caso Quindi non anaerobico Molto meno impattante Fatto con delle celle A container Quindi modulabile E distribuito Alla fine Sul territorio In quel caso Di San Marino Ma potrebbe essere La stessa cosa Nella provincia Di Pesorubino Che alla fine Produce un buon compost Di qualità Che non ha male odori Da quello che dicono E vorremmo appunto Fare una visita Per andarlo a visionare Ed è soprattutto A un costo Molto basso La realizzazione Di un impianto Di questo tipo Quindi alternative A quello che vogliono Proporre Ci sono Noi vorremmo Che si aprisse Un dibattito serio Su questa materia Ma soprattutto Su questa vicenda Perché è stata tenuta All'oscuro Di tutti Questo bisogna essere onesti E ammetterlo E anche l'ultimo convegno Che c'è stato Di lega ambiente E anche lì Non sono stati I dati scientifici Noi produciamo Come Aset 21.000 tonnellate Di rifiuti organici Di verde Non tantissimi E alla fine La spesa pro capite Per le famiglie È di circa 6 euro All'anno A persona Quindi Non è che stiamo parlando Di cifre Che l'Aset Non riesce a sostenere Sfatiamo Sta cosa Perché non esiste Allora Iniziamo a ragionare Su cosa vogliamo E come vogliamo Trattare i rifiuti In maniera seria E noi siamo disponibili Vogliamo invece Andare a sbattere Contro un muro E vedere le barricate A bell'occhio falcinetto E siamo disponibili Anche a questo Dipenderà Dall'amministrazione Il cosa a voler fare Qual è il litera Adesso Dopo la raccolta firma E la deposita Dopo averle depositate In comune Qual è il litera Che si prospera Ma da quello Che ci hanno scritto Perché ce l'hanno scritto Il 29 Quindi Proprio ieri Si è riunita Per la prima volta La commissione Che valuta Il quesito referendario Il quesito referendario Dal punto di vista Tecnico e amministrativo È stato approvato Tra virgolette Nel senso che Le firme raccolte E validate Sono state 440 Totale Per cui Il referendum è valido Bastavano più di 300 firme Stiamo tendendo L'esito Della commissione Che dovrà dire Il quesito è ammesso A quel punto Il sindaco Dovrà indire il referendum Probabilmente Da luglio in avanti Dopo l'elezione regionale E sono rimbalzate Un po' Sui social Delle immagini In questi giorni Di alcuni esemplari Di Murena Spiaggiate Nel nostro littorale Allora Noi per capire Il perché Insomma E conoscere un po' Più da vicino Questo splendido Esemplare Della nostra Fauna marina Siamo andati a chiedere All'esperto Numi e delucidazioni Sentite nel servizio Di Francesco Salvago Che cosa ci ha risposto Avvistati degli esemplari Di Murene Una specie di pesci Anguilliformi Che hanno destato Scalpore Tra i passanti Lungo la battigia Delle spiagge fanesi Questa specie Comunemente conosciuta Nei mari tropicali Dove hanno la massima diversità Vivendo in temperature calde Di solito Su fondi A bassa profondità Sono comparsi anche Nel mare Adriatico Quali sono le caratteristiche Delle Murene? Le Murene sono dei pesci Dei pesci ossei Appartengono al gruppo Di Murenoidi Parenti dell'anguilla Del gronco Solo che è una famiglia Di pesci Che sono compressi lateralmente Mentre l'anguilla Ha una sezione quasi tonda Questi qui sono compressi E hanno delle caratteristiche Biologiche Molto simili A quelle di altre Del gronco Tanto per dire Vivono normalmente In zone costiere Rocciose Perché loro vivono Negli anfratti Nell'ambito delle rocce E si nutrono di quelli Che sono dei piccoli Crostacei Dei cefalopodi Ossia dei moscardini Dei polpi Queste murene Sono dei pesci Che direi Sono frequenti Dove ci sono Queste condizioni ecologiche Quindi queste zone Di scoglio Di roccia Di pietra Dove loro devono fare La loro tana Stare nascoste Fare l'agguato Quando gli passa davanti Qualche cosa Riuscire ad acchiapparlo E sono anche abbastanza Attrezzate bene Perché sono dei pesci Che possono raggiungere Anche una dimensione Di oltre un metro Un metro e venti Un metro e trenta Come lunghezza massima Sono dei pesci Che sono attrezzati Con una buona dentatura Ci hanno dei denti Sia sopra che sotto Quindi quando danno un morso Riescono a trattenere La preda Che non scappa Questa specie Si può trovare Nel mare adriatico? Sono sicuramente Presenti in tutto Il Mediterraneo Ma non solo nel Mediterraneo Ma anche in Adriatico Solo che in Adriatico Noi a Fano Normalmente Non abbiamo Una grande quantità Di ambienti rocciosi Dove queste possono vivere Quindi Non ce ne sono tante Ma sono state segnalate Diverse volte Ad esempio sotto il monte di Pesaro Sono state segnalate Al Cronero Sono delle specie Che si spostano Quindi un certo momento Una volta di giovane Man mano che cresce Cerca di trovare Una tana più grande Un ambiente Quindi fa degli spostamenti Sono nocive per l'uomo? No Non è nociva Un certo momento È un predatore Come tale Che se uno Non gli disturba Non gli dà nessun fastidio Solo che se a un certo momento Uno comincia a entrare Nel raggio d'azione Gli va vicino alla scogliera Dove questa sta Davanti alla sua tana Gli ci passa E c'è una dimensione Di un dito Di un qualche cosa Che gli possa dare un morso Quella glielo dà il morso Non è un predatore che scappa È un predatore che attacca La morena è una specie commestibile? Certamente È commestibile Ed è anche molto pregiata Tenga conto che già dall'epoca Dei romani Tenevano nelle piscine Le morene Proprio per mangiarle Non è che le tenevano lì Per bellezza Sono dei pesci Che hanno dei bei colori Diciamo in particolare La morena Elena Che è quella che Diciamo è stata trovata spiaggiata È un pesce Che ha questi Diciamo macchie giallastre Sul fianco Che è bello anche da vedere Molto elegante Quando nuota Sinuoso Riesce a rigirarsi In tutti i modi Possibili E così via Evidentemente Direi La pesca La può prendere Ma con cosa la prende? O con delle nasse Oppure con delle reti da posta O con gli ami Però sono molto apprezzate Quindi sui mercati Raggiungono anche dei prezzi elevati Solo che nel mercato Li fanno Non essendo una specie presente Non essendoci nessuno Della zona Che fa quel tipo di pesca Normalmente non ci sono Bene Abbiamo conosciuto Grazie al professor Piccinetti Questo affascinante Esemplare dei nostri mari Allora Una di sport Parliamo di motociclismo E lo Sky Racing Team VR46 E' stato svelato a Tavulia Nel ranch di Valentino Rossi Quattro piloti Tutti italiani Divisi tra Moto2 e Moto3 Si apprestano a vivere La settima stagione Della squadra Che fino ad ora Ha collezionato Un titolo mondiale Moto2 Con Francesco Bagnaia Nel 2018 18 vittorie 47 podi Le ambizioni più concrete Pesano sulle spalle Di Andrea Marini Fratello di Valentino Che con il neo acquisto Marco Bezzecchi Correrà nella categoria intermedia A Celestino Vietti E Andrea Migno Un ritorno Sono affidate le Moto3 Pablo Nieto Resta al timone della squadra Con il sesto anno di fila Nel ruolo di team manager Bene Adesso parliamo di carnevale Due servizi che ci presentano Il primo Insomma Gli eventi collaterali Che sono stati presentati Questa mattina Paralleli A tutto il periodo Delle sfilate Sentiamo che cosa avverrà Il palazzo del carnevale Si rinnova E per il secondo anno Si trasforma In un luogo di culto Per tutti gli amanti Della manifestazione Un rinnovamento Che parte Dalla location Di Casa Arredo Il carnevale Avrà anche in questa edizione L'occasione Di proporre Alla città di Fano Diverse iniziative Infrasettimanali All'interno di questo palazzo Ci saranno Tutti gli eventi Collaterali del carnevale Da momenti culturali A momenti più ludici A momenti con aperitivi Con sottofondo musicali Momenti di musica vera e propria E quindi Intrattenimento Sabato 8 Una cena di beneficenza Molto importante Che faremo qui Dedicata a Teleton Raccoglieremo fondi per Teleton Con due grandi ospiti Federico Ielapi Che è l'attore bambino Che ha interpretato Pinocchio Nel film di Garrone Con il grande Roberto Benigni E Vincenzo Boni Un atleta parolimpico Plurimedagliato Venerdì 7 Dove l'attore Colangeli Un attore molto famoso Che ha lavorato con i più grandi attori Del cinema italiano Sarà qui Ci porterà all'inferno di Dante Una serata all'inferno E poi con lui potremmo brindare Il Carnevale di Fano Quest'anno è anche al fianco di Teleton E sostiene le malattie genetiche rare Le tre domeniche di festa Assumeranno un'importanza rilevante In quanto entreranno a far parte Di una staffetta di eventi Che coinvolgerà tutto il territorio nazionale Per festeggiare 30 anni della fondazione Per le tre giornate dedicate Al carnevale più antico d'Italia Infatti Una parte del biglietto d'ingresso Sarà devoluta alla ricerca scientifica Sulle malattie genetiche Come amministrazione siamo contenti Che ci sia questa bella sinergia Nella città Tra pubblico, privato Enti e associazioni Che danno un grande risultato Della città E poi con un luogo così proprio Affacciato a piazza 20 settembre Direi che siamo sulla strada giusta Tra le novità di quest'anno Annunciate l'idea di realizzare La birra volona Etichettata con il logo Della manifestazione Mentre work in progress Un progetto dedicato Alla creazione della pizza Dedicata al carnevale Con l'intento di coinvolgere Tutti i ristoranti della città Bene Chissà che sapore avrà la birra volona Allora Continuiamo sul tema del carnevale Perché continua anche il nostro viaggio All'interno dei giganti di carta pesta Questa volta il nostro inviato Filippo Pucci Ci fa conoscere un po' più Da vicino Senza svelarlo troppo Il carro realizzato da Anna Mantovani Dal titolo Vita Natural Durante Guardiamo L'anno scorso Aveva debuttato Il carnevale di Fano Con il suo carro Che aveva conquistato tutti Con Viva la Frida Viva la Rivoluzione Anna Mantovani Carrista fanese Dell'associazione Carnival Factory Anche quest'anno Torna all'attacco Con una sua nuova opera Che verrà riprodotta Nel vecchio carro Dedicato a Gioacchino Rossini La sua idea Ricordiamo il tema del carnevale 2020 L'ambiente è dedicata alle specie animali In via d'estinzione Vita Natural Durante Il titolo del carro Dove un pipistrello Un lupo E un uccello Vengono racchiusi in corpi di donna E perché vengono rappresentati In corpi femminili Noi siamo andati a chiederglielo Secondo me C'è l'elemento naturale La madre terra E il pianeta Non lo so Lo accomuno molto Con una fisionomia femminile No? Nel senso di accoglienza Di protezione Di benevolenza Per sì È un carro Che rappresenta Una fiaba Che ho inventato io Che parla di Animali in estinzione Niente Praticamente È un rituale magico In cui questi animali Si radunano Per scongiurare La fine del mondo E decidono di ritrovarsi E di mettere in scena Questo rito Per vedere Se riescono a risolvere Qualche problema Che l'essere umano Non riesce E quindi si incontrano C'è una donna pipistrello Che è il personaggio principale Una donna lupo E una donna uccello Si incontrano tra di loro E fanno questo rito Dietro di loro Compare l'aurora boreale Il sole La luna E venere Che è tra le dita Della pipistrella Il resto non posso dire Perché saranno sorpresa E niente La domanda è Ce la faranno I nostri animali A salvare il pianeta? Bene E con questa bella parentesi Sul carnevale fanese Prossimo venturo Chiudiamo qui questa edizione Di Occhio alla notizia Il numero che vedete In sovrimpressione È sempre attivo Per le vostre segnalazioni O per entrare in contatto Con la nostra redazione Grazie Io vi lascio ai nostri programmi L'informazione torna domani mattina Alle 7 Con Occhio ai giornali Arrivederci E buona serata a tutti voi Grazie 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 a tutti.